Nelle orti neonini si plasma la natura dentro le forme. Sono molto felice di essere in questo luogo straordinario. L'arte non è che può cambiare il mondo, questo lo sappiamo. Penso che l'arte può suscitare qualche elemento di cambiamento. Sono stupito con questi cipressi che danno un cerchio proprio di energia unica. Sono come dei guardiani che custodiscono il protagonista che poi è la luce. Mi sembra che l'iceberg ha trovato un'altra volta il suo luogo. Ha trovato di nuovo la sua casa. È un confronto, un dialogo fatto di luce con la stessa essenza mistica dei marmi del Duomo che sono dietro. Si dice che il Duomo di Siena sia stato progettato da un gioielliero. Questo mi sembra un gioiello contemporaneo attaccato al collo di un cielo blu. Per questo ci porta a guardare verso il cielo, verso l'infinito. Grazie. 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 Grazie.